Marina Mandrile insieme a Umberta Gibellini Altro equipaggio del trofeo Lady firmato da BMW Altro equipaggio via, qui c'è una sfida davvero molto calda Perché le donne secondo me sono molto più determinate Ma noi per esempio dopo 30 anni a Vox si dice a volte ritornano, noi siamo ritornate Ma di fatto sono due navigatrici E questo trofeo BMW, una delle cose belle che ha fatto sì che chi magari ha sempre navigato Per questa volta ha deciso di provarsi dall'altra parte Ci proviamo perlomeno Guarda Del divertimento Bravissima, è detto una cosa bellissima Molto bene, buon divertimento allora, il resto lo discutiamo tutto domani Marina Mandrile, Umberta Gibellini, BMW 318 IS della Rally & Co Marino 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 Tritto, tritto, tritto Grazie a tutti a 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